Che cosa ci fa allontanare nelle relazioni? Ci sono tre punti fondamentali che voglio sviscerare oggi. Il primo punto è la mancanza di comunicazione, si fa fatica ad entrare proprio in empatia con le persone, si fa fatica a capire e comprendere che cosa fa male all'altro e di conseguenza ascoltare ciò che quella persona ti sta dicendo senza interromperla, questo è fondamentale. Il secondo punto è la mancanza di non avere il coraggio di esprimere se stessi per andare davanti al partner e far capire quali sono i punti che ci stanno facendo star male. Un'altra cosa fondamentale è superare la paura di essere abbandonati e rifiutati, se riesci a fare questa cosa in un rapporto e riesci a comunicare con attenzione e coraggio empatia al tuo partner, quello che effettivamente ti sta facendo male nel rapporto, affinché possiate trovare un punto di incontro ascoltando anche l'altro, riuscirete a trovare un equilibrio. Superando la paura di essere abbandonato e rifiutato, riuscirai anche a rispettare te stesso e soprattutto a rimanere sempre in un rapporto sano, perché in quel caso se avrai paura di essere abbandonato e rifiutato inizierai ad avere una relazione tossica e a quel punto in un qualche modo la relazione finirà.